Musica Dopo il periodo di lockdown imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19 e il conseguente spostamento nella platea del Teatro Fusco, più ampia per rispettare le norme sul distanziamento sociale, il Consiglio Comunale di Taranto è tornato nel consuete Camere di Palazzo di Città. I conti del Comune sono in regola, ha affermato il Presidente della Commissione Bilancio Dante Capriulo. Oltre all'avanzo tecnico di circa 200 milioni, infatti, registrati anche altri 2,7 milioni di avanzo reale, che verranno tradotti in servizi per i cittadini. Finalmente oggi rientriamo nella sede propria del Consiglio Comunale di Taranto dopo l'emergenza Covid-19. Gli argomenti riguardano in particolar modo il bilancio e i tributi. Approviamo il rendiconto, che certifica che i conti del 2019 del Comune di Taranto sono stati in regola. Oltre all'avanzo tecnico, che è di oltre 200 milioni, abbiamo l'avanzo reale, che è di 2,7 milioni, che potremo, spero, spendere a breve a favore dei cittadini. Dopodiché c'è tutta la manovra tributaria da IMU, Tari, TOSAP, dove non ci sono grandissime novità, se non tutte quelle previsioni a favore dei cittadini legate all'emergenza Covid-19, che il Consiglio e l'Aggiunta hanno già deliberato. Per cui ci dovrebbero essere novità, ripeto, sulla TOSAP, dove si andrà, oltre all'esenzione per gli esercizi pubblici, toglieremo anche la tassa di rifiuti giornalieri, che era un problema che il legislatore non aveva definito. Sul IMU ci saranno delle previsioni a favore delle categorie che hanno sofferto per quanto riguarda il Covid-19 e incentivi a quelli che vorranno investire. E anche sulla Tari, che è la tassa spazzatura, ripeto, interventi a favore di quelle attività che hanno subito i problemi legati al Covid-19. Quindi una serie di manovre compatibilmente a quelle che sono le esigenze di bilancio, perché ovviamente poi i conti devono quadrare, perché dobbiamo dare i servizi ai cittadini, cercheranno di dare una mano a tutti quelli che hanno sofferto in questo periodo particolare.